Non è stato neanche facile trovare dei medici che abbiano saputo prendere in carico la mia patologia. Andavo da un medico, si facevano delle terapie ma non c'era nessun risultato utile sui miei sintomi e devo dire però che da questo punto di vista i medici dovrebbero anche sollecitare. Invece io non ho mai avuto un medico che mi abbia detto alcunché al riguardo, sono sempre stata io a doverlo sollecitare e ho avuto anche risposte così poco utili dal mio punto di vista. Invece bisognerebbe anche sforzarsi di fare quanto più esercizio fisico possibile, esercizio ovviamente compatibile con le proprie possibilità, però insomma farlo. Ho sempre avuto medici in famiglia e quindi però i miei medici di famiglia erano contenti quando si appurava che io non avessi un cancro al polmone, quindi una volta che era stato verificato che non avevo il cancro al polmone e poi potevo anche morire per la mia tosse ma non… Ma sì mi davano i farmaci che poi al momento non sempre poi dovevo continuare a cambiare perché non facevano l'effetto desiderato. Era sempre allora proprio su consiglio della mia dottoressa di base, mi ha consigliato di andare lì e lì finalmente ho trovato il giusto equilibrio per la mia patologia. Ho avuto come diagnosi per un anno la diagnosi di un tumore al polmone perché sono andata nell'ospedale della mia città dove la pneumologia non esiste, cioè ci sono dei medici incapaci, mi spiace dirlo ma questo è. Il medico di base adesso l'ho cambiato proprio marzo, aprile perché quello che avevo prima era meglio perderlo che trovarlo. Dico quando io devo venire da un medico? Avere l'ansia e uscire con l'ansia? Quando sono andata alla visita pneumologica l'unica cosa che mi ha detto è stato appunto di utilizzare al bisogno questo. In una visita pneumologica precedente mi aveva dato un prodotto e mi aveva detto di utilizzarlo tutte le mattine, se non avesse funzionato di lasciarlo perdere. Al che io ho detto ma non è una cura, no questa è una cosa che si utilizza a vita naturale durante. Il che mi sono detto beh allora se posso farne meno ne faccia meno. Nessuno di loro mi ha parlato di ginnastica respiratoria. Poi ho cambiato ospedale perché lì praticamente vabbè diciamo tutta una serie di cose che non mi dava troppo, non mi sentivo considerata anche perché aveva detto dopo la visita avevo chiesto mal controllo ma offro due o tre anni quindi c'è un po' azzolto che si utilizza stesso. E' un po' azzolto che si utilizza un po' azzolto. Si è chata la personati, è un po' azzolto che si è piaciuto. Grazie.